Se non mi conosci mi presento, sono Bosna Dani e faccio musica strumentale. Il mio genere è un mix di indie, alternative ed elettronica. La chitarra acusica suonata in fingerstyle dà un tocco personale distintivo a ciò che faccio. Qui di seguito trovo i brani che mi rappresentano di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.